felice regresso figlio delle mamme non imitare il mio ascent pisciazza adesso chi ti ha minacciato senza dire il nome chi ti ha minacciato ieri al telefono giusto l'altro ieri più mariello non dovevi dire il nome e beh amico ho detto che mi ha detto non ti spari in bocca ho detto solo più mariello mi ha minacciato fisicamente rimorso io mi dissocio non è vero ma è mai successo niente di tutto questo parleremo benissimo perché ci hanno minacciato i camorristi non è vero non è vero se anche te sei affiliato a comunque a qualche sistema metti un bel like perché a noi serve a intrallazzare poi con youtube con le stecche di malboro quelle di contrabbando adesso ovviamente è il buon chi? da ciume perché fai i nomi? quindi dopo queste ripetute minacce di morte violenta io ti dico metti un like e una preghiera ho fatto un'ora di dialogo violentissimo barlo me l'ha tagliato ma lo riprenderemo perché è un discorso troppo pesante plug e coco chi è plug? plug è un bravo guaglione un bravo guaglione non è un vero plug questo è plug di rime plug di musica ma soprattutto plug di... fatto il trick bocchini no ci piace se piace la ragazzi e coco e coco perché facciamo questa reaction perché lui è veramente molto giovane a 15 anni 15 16 eh sì ma se i ragazzi giovani che stanno uscendo adesso ma perché non vi drogate come tutti i vostri amici o il trick è li mettete sotto sotto tortura no sotto torchio paga da giovani in modo che non vi passano... questo è lavoro minorile eh appunto senti già hanno cazzi loro già sono napoletani valli anche a mandare in assolo allora non abbiamo detto niente ascoltiamoci solo ascoltiamo sta canzone che si chiama mille volte sbirro ti tira un pugno in faccia coco e plug quindi è coco che ha dato aiuto a plug per il suo primo simbolo sì però è plug featuring coco in realtà quindi metti il like così coco vai ah credo che li abbiamo ospite stasera eh sì abbiamo anche l'intervista con loro due però non volevo dirvelo subito no questa sera alle 21 e 30 su questo canale c'era un'intervista non volevo dirvelo subito eh però eh vabbè mi è scappata ti è scappata? si fai ah bello gelato a sassari credo Eeeeeeeeeeeeeee è Jake Si In italiano eh? Bello il timbro Cioè ma tu featuring coco uguale rap sulla fregna? per forza allora è come quando prendi polo positivo e polo positivo e si respingono perché tutte e due vogliono andare da due fregni esattamente quella in mezzo di matri si ma devo immaginarmi adesso io Plug e Coco che li buonano con le loro ragazze non dire cose strane perché il ragazzino ha 15 anni si canti chi la metrica ma guarda dove guardava dove guardava guarda che abbassa lo sguardo gli è caduto l'occhio ha fatto proprio è stato impercettibile impercettibile ha fatto così ehi questi valli in giro vestiti è così ma questa è anche una perteca guarda come cazzo è alta questa a farmi mettere per primo le mie colpe e mi fai male quando mi rispondi fuori mi ha insegnato ma gli ha dato 20 euro passa il pezzo da 1500 con la mano nessuno sgamo gli ha dato 20 euro infatti guarda com'è contenta grazie 10 anni dopo mi stai dicendo mi stai dicendo che è la stessa persona che è uno storytelling praticamente Coco è diventato Fedez ha detto ah minchia anch'io la tua età ero come te gli ha detto cosa c'entra con Fedez tutti gli ospiti di Muschio Selvaggio mi dice anch'io è come Berlusconi Fedez che parla terza persona no che anch'io sono stato un operaio Berlusconi si però lo è stato quando è andato dal covo dei partigiani ti prego andiamo avanti è la dia l'ha sgiamato proprio ehi la però lei è un uccido merdo c'è più lagge che quando parla con le tippe così no vabbè che hai capito devi no hai capito devi toccare è deformazione professionale quella no coglione no è proprio perché hai capito l'attenzione è proprio questa no perché sai io con Coco sto facendo male si rigioga il fatto di essere un video di Coco per chiamare ma quindi Coco si è preso la sorella piccola e e e e e e con la grande hanno fatto lo scambio ma è giusto così una nave scuola per un giovane marinaio e un e una sirenetta per un vecchio piratones con tutto il rispetto per i genitori per i piratones noi non stiamo assolutamente dicendo che è successo qualcosa da polvere ma no ma è un video è la fantasia del video è un film questo mica è anche perché dieci anni dopo qua invece sono in una bolla temporale dove entrambi esistono era quello che stavo pensando ho detto forse è meglio che non dico niente su questa roba della temporalità mamma mia non rivederci più non puoi tagliare il cordone che ci lega siamo come due facce ma della stessa ma frir però almeno ho trovato qualcuno per cui morir faccia scassa la micchia vai senti una cosa visci di merda però se pensi che adesso a di là le cazzate le canzoni d'amore visci d'ones cosa dovevamo dire la metrica il flore no metrica flore ci sono ha un bel timbro lui ed ha 15 anni ha scritto tutta sta roba è a 15 anni è pure bello di faccia pensa a 20 quanto ci piacerà la fregna sei già a 15 e come hai messo così questo lo resta non finisce qualche sposatevelo perché altrimenti è una bomba vagante guarda che il tipo è proprio forte il fatto che canti in italiano mi dà quell'incipit in più nel momento in cui la trap la drill c'era o comunque il rapper napoletano ha uno stigma ha uno stigma no si anche perché guarda 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 X Factor l'altro giorno c'era dei ragazzi napoletani molto bravi un ragazzo napoletano molto bravo che però quando ne parlerà di Jullier e dice cazzo abbiamo già un Jullier anche tutti i ragazzi di Napoli che escono con quel timbro simile cosa succede quando esce invece un ragazzo come lui che prova anche a cantare prova anche a fare dei vocalizzi delle cose e la voce ce l'ha perché c'è il timbro e ha una sua identità ed è importante avere personalità personalità ovvio anche ad avere anche una penna e con un margine di miglioramento infinito visto che ha 16 anni raga 16 anni tu a 16 anni facevi cazzo palazzo terrazzo in freestyle con i tuoi amici però visto negli ultimi periodi quanti ragazzi i 16 anni stanno uscendo che stanno mangiando in faccia ma è giusto agli adulti che si sono autoghettizzati in quella merda oppure si sono appoggiati 16 anni tu hai voglia se poi leggi ti eserciti a scrivere impari parole nuove impari incastri è lì è lì che hai la fotta 16 anni se anche tu hai 16 anni dentro come me metti il like fatti la cresta verde e vatti dai che verdi posso poi fare sapere che cosa ti ha detto il macellaio oggi quando sei da occupare la carne perché voglio che lo sappiano io c'ho il macellaio più o meno di fiducia perché siamo i king della griglia io e lui no poi stavo per snicciare una cosa mi sono fatti i cazzi miei va bene e mi fanno ma che cazzo di cappello hai fatto che hai 40 anni ma manco ciao mi ha detto sono entrato ma che cazzo di cappello e avevo il cappellino guarda sto youtube però sembra uno di quelli che commenta sotto i video poi mi fa portami le castagne e ti regalo un salame perdonami io allora accetto questa cosa cazzo sto andando in montagna adesso grazie per averci seguiti qua sotto anzi stasera alle 9.30 in live con qua su youtube con coco e plug ci vediamo più tardi mi piace una fregna questa in botto ciao a tutti ciao a tutti